Sud Tirol Garden dal 2017 si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria dei vostri spazi verdi privati o pubblici. Sud Tirol Garden progetta, realizza e conserva nel migliore dei modi giardini, parchi e aiuolo. Ci occupiamo inoltre di disinfestazione, irrigazione e potature con attrezzature efficienti e all'avanguardia. Una delle nostre specialità è il ripristino di aree verdi abbandonate con abbattimento di alberi ad alto fusto e con ritiro e smaltimento delle ramaglie presso centri specializzati. Sud Tirol Garden offre un servizio su richiesta 7 giorni su 7. Per maggiori informazioni e preventivi chiamateci al 366 3166 882 o scriveteci a sudtirolclean.gmail.com